Nuovo appuntamento con la nutrizione e il benessere a cura del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Sabato 26 ottobre torna l'ora solare e per questa occasione abbiamo chiesto al dottor Andrea Ricci di parlarci un po' della correlazione tra l'alimentazione e il cambio dell'ora. Ecco, come influisce sul nostro corpo? Sì, appunto nella notte tra sabato e domenica ci sarà questo cambiamento dell'orario, alle ore 3 bisognerà portare indietro l'orologio di un'ora, quindi alle 2. Diciamo che in Italia potrebbe essere una delle ultime volte perché l'Europa sta pensando appunto di lasciare liberi i paesi, di poter scegliere se seguire l'ora solare o l'ora legale. Questo spostamento all'indietro di un'ora di solito poi coincide anche un po' appunto con le giornate un po' più corte, la stagione più fredda che entra e può causare anche in maniera soggettiva però dei piccoli fastidi. Quali possono essere l'alterazione del ritmo sonno-veglia ma anche una difficoltà di concentrazione, una sonnolenza e questo può diciamo coinvolgere anche i bambini che fanno più difficoltà anche ad adattarsi a questi cambiamenti. Cosa possiamo fare? Allora sicuramente ci sono delle piccole regole come cercare di andare a dormire un poco prima quindi per svegliarsi presto la mattina anche perché diminuiranno le ore di esposizione al sole e quindi questo può incidere anche sull'umore in senso diciamo depressivo ma anche appunto sull'appetito. Infatti proprio per l'alimentazione cosa possiamo fare? Sicuramente ridurre un po' tutte quelle che sono le sostanze eccitanti quindi per esempio il caffè, il tè, le bevande gassate e zuccherate ma anche i piatti molto elaborati, molto conditi e molto grassi. E preferire invece quelle che sono i cibi ricchi di triptofano che è appunto un amminoacido precursore della serotonina cioè l'ormone della serenità, della felicità. Tra questi ricordiamo i cereali integrali, la frutta fresca, la frutta secca e prediligere anche quelle che sono i legumi, le canne bianche, i formaggi magri e freschi. E soprattutto sarebbe una buona norma prima di andare a dormire la sera bere un qualcosa di rilassante che possa favorire il sonno come può essere la camomilla oppure una tisana, la melissa o la valeriana. Grazie dottore per i preziosi consigli, grazie anche ai nostri telespettatori che continuano a seguirci affezionati sul nostro canale. Continuate a scriverci, consigliateci gli alimenti che più vi incuriosiscono e sicuramente ne discuteremo prossimamente insieme al dottor Andrea Ricci. Grazie e arrivederci alla prossima settimana.